e qui flash 81 e la cuoca pasticciona che si fa un... è arrivato un pacchettino grazie come al solito, siamo immersi di regali e si accettano volentieri ragazzi io ancora faccio il video con il cilone perchè non c'ho la telecamera quindi è un po' così troballante questo è il pacchetto e si apre e ora si apre, è più lungo che largo qui non entrano i gattini, in questo non è poi si butta via, quindi cambio l'inquadratura allora questo è il pacchettino, è San Valentino oggi auguri a tutti gli innamorati teniamolo fermo amore e si aspetta non lo diciamo noi perchè non vogliono che le lo diciamo aspetta ringraziamo eh noi si si, io si ringrazio sempre e poi apprezziamo molto oggi signora eccolo qua ombrellone, non si apre perchè è forte figa no ma io l'ho anche tanto per un frustigato di me questo non c'era ahah amore si spiegato che sei comando a amore ora questo è il mio ombrellino e ne ho ma che sbagliare ora però vediamo un po' com'è che dovrebbe avere un disegno particolare e ora si guarda un momento ecco lo va questo è l'ombrellino E' molto stiloso, ha anche il... come si chiama? Il copio ombrello Il copio ombrello, ma questo tiene anche me, eh? Ah, sì, sì E ha il mio ombrello per innamorati perché ti stai in due sotto la pioggia, eh? C'è il puzzante Vedete se stiamo in due sotto la pioggia? Stiamo in due sotto la pioggia, che immagine romantica Madonna che peso, io non ce la pagare di tenerlo Ora non so come far vedere, vabbè ve lo faccio vedere aperto in quest'altro modo Aspetta Ma no, che grosso, ragazzi, ti puoi chiamare questo ombrello, l'ombrello del innamorati Un momento Perché quando piove si sta in due sotto l'ombrellone Aspetta, ci penso io Chiedimelo ferma Ehi, ci sto provando, stai ferma, la tengo Puta, non ce la faccio, pesante Allora, lascia Questo è l'ombrello aperto Questo, ragazzi, è l'ombrello aperto Però vi faccio vedere anche come è da dentro Cioè, della serie Non mi piace la pistola Non avete paura che ci copri Eh, amore Io ero abituato Avete pensato che le ombrelli di tascabile Ve le mettete dentro la borsetta Voi ragazzi, voi donne È meglio Questo va bene per gli uomini Questo non avete paura E ti copri Sì, ma questo è troppo pesante per noi Ma faccio il ombrello Ho detto che è il mio Ma non ho detto che è tuo Cazzo, e sai tutti e due Perché questo va bene Quando andiamo in giro Lo tieni tu da buon cavaliere Ma non ho detto che mi copri Volevo che si saluta da sotto l'ombrello Può piovere ora Ah, ovviamente Non so se avete fatto il disegno dell'ombrello a studio Scusate di reso sentivo Cosa vuoi dire? Che è un videogioco, amore Ah, pensiamo che sono lenta Ah, ragazzi Vi vecchierò qui sotto anche lì Di un canale Di una mia carica Di una mia carica Amica Si chiama GMR12 Passateci Iscrivetevi Che porta Porta videogiochi E intanto porta Quelli vecchi PS1 PS2 E commentate Che vedo che ci guardate Non ci commentate Commentate pure Ciao ragazzi